no 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 lo ripetiamo tre volte perché ancora queste persone non entra nell'orecchio non si possono rifiutare i pagamenti per posse anche per pochi euro ad esempio un caffè ma 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 la legge non prevede sanzioni per chi viola questo obbligo questi sono i paradossi del nostro sistema cioè è previsto l'obbligo di accettare i pagamenti con posse ma se uno non lo rispetta non rischia nulla ma a questo punto il cliente che cosa può fare se non ha i soldi spicci certamente il negoziante non lo può trattenere se si tratta di un ristoratore non lo può obbligare a lavare i piatti ma non può neanche rinunciare al proprio credito perché lì c'è stata la prestazione e allora il cliente ha diritto a tornare un altro giorno con i contanti o magari quando il post funzionerà o magari a fare un bonifico bancario questo sì questa è la legge